Dopo una breve parentesi in arancione, la provincia di Pesaro e Urbino si colora di rosso assieme a quella di Fermo. Questa mattina, scritto in una nota su Facebook il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, abbiamo effettuato la valutazione dei dati settimanali della pandemia nella nostra regione. I numeri, ha continuato il presidente, indicano il forte incremento di casi anche nelle province di Pesaro, Urbino e di Fermo, che mostrano una tendenza di crescita molto elevata, seppure per poco non raggiungano la soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nella provincia di Ascoli-Piceno, invece, ha spiegato Acquaroli, si registra un trend inverso con un lieve calo dei contagi. A partire da mercoledì, Pesaro, Urbino e Fermo si aggiungono a Macerata e Dancona nella macchia rossa che si estende sempre di più all'interno della regione. Resta salva solamente la provincia di Ascoli, l'unica a rimanere arancione. Anche per Pesaro, Urbino e Fermo, quindi a partire da mercoledì 10 marzo fino a domenica 14 inclusi, saranno valide le restrizioni stabilite per la zona rossa. Sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di comprovate ragioni lavorative, salute o necessità. Restano chiusi i bar ed i ristoranti, con asporto consentito fino alle 18 per i primi e fino alle 22 per i secondi. Chiudono le scuole di ogni ordine grado, comprese le università, e chiusi anche i negozi e attività di vendita al dettaglio, compresi i centri estetici, barbieri e parrucchieri. Restano aperti i negozi di prima necessità. A dare l'annuncio sui social, a seguito della riunione svolta in giornata, che ha visto partecipi, oltre a Regione e Asurmar, che anche i sindaci del territorio, sono stati i numerosi primi cittadini, tra cui anche Massimo Seri, sindaco di Fano, che scrive in un post su Facebook raccomando la massima responsabilità nei comportamenti, al fine di poter uscire al più presto dall'emergenza.